E' nato nelle officine meccaniche Nigro di Taranto il bacino di Dario, così si chiama la struttura galleggiante che servirà a costruire cassoni in cemento armato per il porto di Salerno. L'ingresso della megastruttura non è certamente passato inosservato nel pomeriggio di ieri all'interno del porto commerciale di Salerno. La struttura è alta 6 metri per 46 e 38 di larghezza ed era visibile già da lontano non appena si è stagliata all'orizzonte. Il porto commerciale, composta da 4 carri ponti, una gru e numerose pompe di zavorre per sentina, può costruire cassoni fino a 30 metri. La struttura sarà utilizzata nel porto di Salerno per realizzare l'allargamento dell'imboccatura del porto, contemporaneamente al lavoro già nello scalo commerciale per il dragaggio due draghe. I lavori di allargamento dell'imboccatura del porto commerciale di Salerno prevedono il prolungamento del molo di soprafflutto per una lunghezza complessiva di 200 metri. Proprio il prolungamento rende necessario la costruzione e la posa in opera di cassoni cellulari in cemento armato, previo consolidamento del terreno di fondazione. L'intervento infine prevede anche l'adeguamento dei segnalamenti marittimi, il fanale verde e il fanale rosso, alle nuove estremità dei moli. Grazie per la visione!